Cos'è che la convince meno rispetto alla manovra che il governo si appresta a varare? Ma guardi, il ricorso al latinorum dell'eghista Ottaviani che ha dovuto dire est modus in rebus per dire sostanzialmente, per tradurre quello che ha detto Giorgetti agli italiani, che dovranno stringere ulteriormente la cinghia, si stanno arrampicando sugli specchi perché la verità è che Giorgia Belloni... Allora aspetti, 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 dobbiamo fermarci, il resto me lo dice dopo, due minuti di pausa. Maiorino, continui pure. Sì, no, dicevo che il ricorso al latinorum del collega Ottaviani è molto significativo perché appunto si vuole, come dire, gettare fumo negli occhi agli italiani per non dirgli quello che ha detto Giorgetti molto chiaramente, ossia che dovranno stringere ulteriormente la cinghia. Perché? Perché Giorgia Meloni è diventata Giorgia Monti, cioè siamo di fronte ad un governo la cui austerità, che noi avevamo immediatamente denunciato fin dall'inizio, si è ormai palesata. Non stanno facendo nulla contro il caro vita e piangere sulla denatalità mi permetto di dire che sia addirittura ipocrita se si fa parte di un governo che si ostina a non voler riconoscere il salario minimo legale, che sarebbe davvero il minimo indispensabile. Ha eliminato il fondo per la morosità incolpevole, non fa assolutamente nulla per contrastare il precariato, tutt'altro, cioè nel giorno della festa dei lavoratori ha emanato un decreto che precarizza ulteriormente il mondo del lavoro. Cioè di fronte a tutto questo, come si pensa di affrontare il futuro? Come si pensa che i giovani possano desiderare di mettere su famiglia? Quindi, circolo vizioso, non si può fare la riforma delle pensioni, dice Giorgetti. E grazie, siamo di fronte veramente ad un cortocircuito, ad una confusione totale. La gestione economica è fallimentare. 40% delle famiglie non sono potute andare in vacanza. Abbiamo dovuto assistere a quel video grottesco della ministra Santanchè, in cui non si sa come, dice tutti gli italiani devono andare in vacanza, ma non spiega come faranno, visto che non ci sono i soldi. Il caro benzina, tutti i giornali dicono quello che gli italiani sanno quando si fermano al benzinaio, che l'Italia è maglia nera in Europa per il prezzo dei carburanti. Le accise che Meloni malediceva in propaganda elettorale, oggi invece le piacciono moltissimo, visto che non le toglie e non fa nulla per cercare di venire incontro, non soltanto al consumatore finale, diciamo, a chi fa benzina, ma al mondo produttivo. Perché è chiaro che quando la benzina è alta, visto che i trasporti sono fondamentali per andare avanti le industrie, si blocca anche quel mondo lì. Allora, piccola coda sul tema Vannacci. Prego Pirondini, assolutamente. Dieci secondi. Volevo dare una lettura più politica di questa cosa, perché penso che Crosetta vi ha detto una cosa normale, se sei un ministro della Repubblica rispetto a parole che io definisco razziste e anche omofone. E quindi Crosetta ha detto cose assolutamente normali, se sei un uomo delle istituzioni, Giorgio Meloni non può intervenire perché non può sconfessare un proprio ministro. E in tutto questo Salvini ci ha visto un'opportunità politica di rubacchiare qualche voto proprio alla Meloni, perché sa che a qualcuno quelle frasi omofobe e razziste piacciono. E quindi ci si è buttato nella mischia tentando di rubacchiare qualche voto alla Meloni in vista delle europee per riportare la Lega un pochettino più in alto rispetto ai voti che ha attualmente, facendo quello che fa di solito Salvini, cioè tentare di trovare delle difficoltà anche dei propri alleati per riportarsi un pochettino più in alto rispetto a un momento politico molto difficile. E devo andare da Borchia per 20 secondi, però la voglio veramente chiudere. La lettura politica che mi sembrava interessante provare a dare. No, no, come lettura ci mancherebbe. Sulla carovita e soprattutto per quanto riguarda i rincari che ci sono stati alle poppe di benzina in questa fase, avete attaccato insomma il governo per quelli che potrebbero essere magari degli eventuali ristori, come diceva Borchia prima, ve ne aspettate in maniera consistente? Ma guardi, il filo rosso che sta legando tutte le attività di questo governo è il fatto del totale scostamento rispetto alle promesse che avevano fatto. Non mantengono nulla rispetto alle promesse sull'acceso sulla benzina che avevano promesso di diminuire, non promettono nulla rispetto agli sbarchi, che è stato un loro cavallo di battaglia per anni e adesso sono raddoppiati rispetto all'anno scorso e triplicati rispetto a due anni fa e non rispettano nulla nemmeno in materia economica, perché quando Giorgetti ci dice che questa è una manovra complicata, tra l'altro per loro è tutto complicato, è complicata l'immigrazione, è complicato spendere i soldi del PNR che noi gli abbiamo portato, però ci fa sapere che è complicato anche fare una legge di bilancio, che vuol dire soltanto una cosa, che in arrivo nuova austerità. Detto Pirondini che in questa fase tutti quanti i ministri dell'economia che si sono avvicendati hanno sempre parlato di manovre complicate, è anche un modo per mettere le mani avanti nei rapporti con tutti quanti gli altri ministeri. Prego, questo per dovere di cronaca. Probabilmente è così, ma bisogna anche andare a paragonare quello che ora fanno rispetto a quello che avevano promesso, perché quando Giorgetti ci dice che con questa natalità è impossibile qualunque riforma delle pensioni, o comunque non è sostenibile, va paragonata con la dichiarazione che faceva in un'intervista il 1 novembre 2022 Matteo Salvini, in cui diceva supereremo la Fornero a tutti i costi. Allora supereremo la Fornero a tutti i costi, oppure adesso con questa natalità che non è cambiata negli ultimi dieci mesi, alla stessa di dieci mesi fa non si possono fare riforme delle pensioni sostenibili, perché se è come dice Giorgetti, allora vuol dire che Salvini ci prende in giro e prende in giro gli italiani e le persone che lo votano. Inoltre, quando Giorgetti ci dice che c'è un problema di natalità, e questo onestamente lo sapevamo anche prima, allora perché non fanno nulla per migliorare questo problema? Perché allora tolgono il reddito di cittadinanza? Perché sono contrari al salario minimo che permetterebbe alle persone che vanno a lavorare di non essere sfruttate ma di poter guadagnare e quindi comprarsi una casa e quindi poter costruirsi una propria famiglia? Perché hanno tolto il fondo per i mutui? Perché hanno tolto il fondo per le morosità incolpevoli? Perché il primo maggio hanno fatto un decreto lavoro che è un decreto precarietà che rintroduce i voucher? Allora, perché dicono che non si possono fare riforme per questa natalità rispetto alle pensioni e poi fanno solo cose per peggiorare anche la situazione rispetto alla natalità? Cioè era vero quello che dice Salvini che avrebbero superato la fornera ad ogni costo, ma è vero quello che dice Giorgetti, ovvero che non si può intervenire sulle pensioni con questo livello di vita. E se posso dire un'ultima cosa, velocissima, i soldi ci sono e noi abbiamo anche detto dove andargli a prendere. Gli extra profitti sulle banche, sulle case farmaceutiche, su chi investe in armi ci sono per andargli a prendere. Le tasse dei colossi del web che non pagano le tasse in Italia ci sono da andare a prendere. Intervenire su chi fa speculazioni finanziarie a brevissimo termine si può fare. Allora invece di dire che non ci sono i soldi, ma poi trovano i soldi per ad esempio sostenere le società di calcio di Serie A per far ripagare le tasse in cinque anni come hanno fatto a dicembre, invece di dire che non ci sono i soldi mentre fanno i regali ad alcuni, andassero a prendere i soldi dove ci sono, ovvero dai colossi del web, ovvero degli extra profitti e la smettessero di tartassare chi non ha niente e chi come 4 milioni di italiani. Allora questo è diciamo il programma del momento 5 Stelle per quanto riguarda i soldi. Io ho ascoltato con attenzione anche l'intervento del senatore Pierondini, però mi sembra che sia stata tutta una serie, è stata elencata tutta una serie di problemi, però oggettivamente se un partito, il momento 5 Stelle è stato l'unico partito al governo, in tutti e tre i governi della diciottesima legislatura qui nella scorsa, infatti ora abbiamo 200 miliardi di Euro da spendere. Abbiamo avuto la capacità di risolverli, mi sembra che sia un esercizio che lascia il tempo che trovi. Infatti ora avete 200 miliardi di Euro da spendere, grazie a noi. Un attimo, un attimo perché c'era il mio... Pierondini che voleva ribattere a Borchia. Sì no, velocemente, volevo dire che i segnali del passaggio al governo del momento 5 Stelle sono che oggi l'Italia ha 200 miliardi di Euro da spendere e che questo governo non è capace a spenderli. E volevo aggiungere due dati rispetto a... Ma dove? Ma dove? Che citava Dragoni. Si chiama PNRR. Non so se ha brutta notizia, poi non l'ho interrotta, se mi fa concludere cortesemente. Allora un secondo, un secondo per poi dire. E' inutile che hanno atti, anche inutile che hanno atti, anche inutile che hanno atti... Allora un attimo, un attimo, lo dico ad entrambe perché siamo in chiusura. Lo dico ad entrambe perché siamo in chiusura. Lo dico ad entrambe perché siamo in chiusura e si genera confusione. Un attimo Pirondini. Allora, quello che dice Pirondini rivendica i soldi, insomma, del recovery fund fatti dalla precedente registratura, dal precedente governo. Adesso vedremo se i soldi, insomma, il governo riuscirà a spendere oppure meno. Il rispetto al ruolo di questo governo in Europa, ieri Giorgetti ha detto che spera, spera, che non riprenda il patto di stabilità dal primo gennaio 2024. Io speravo che questi signori andassi in Europa a farsi valere, come ci hanno raccontato per anni. Invece Giorgetti mi dice che spera, ora francamente, un ministro dell'economia che spera che non riparta il patto di stabilità. È un ministro che rappresenta perfettamente questo governo chiacchierone e che non rispetta nulla di quello che ha promesso. Allora, sono in chiusura, sono in chiusura, la promessa di invitarvi su una puntata magari dedicata al lavoro, perché sono due prospettive completamente diverse. Sono in chiusura, sono in chiusura, ringrazio, ringrazio, abbassiamo l'audio a questo punto, mi spiace. Navea, a lei che effetto hanno fatto le parole dei due ministri? L'allarme e l'attenzione di rifitto ieri sul ritorno del patto di stabilità? Il messaggio dato a tutti i naviganti da parte di Giorgetti sul non va aspettata e spese folli? Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Ovviamente questo pragmatismo stride notevolmente con quelle che sono state le promesse elettorali, quindi finalmente si è ritornati sulla terraferma, si guarda in faccia a quella che è realtà e bisogna iniziare a dire ai cittadini come stanno le cose. In realtà le risorse ci sono, basta andarle a prendere laddove invece si va ad aiutare gli amici, perché poi ricordo che è ovvio che ci sarà la necessità di trovare fondi per tenere fede a quelle che sono le promesse fatte, non ci riusciranno e questo pragmatismo porta unicamente ad un solo scopo, quello di aiutare chi in che modo. Abbiamo dato sempre, io ricordo sempre i soldi dati praticamente alle società di serie A, perché abbiamo permesso di spalmare nel tempo il loro debito, soldi che servivano oggi, perché tutto ciò che serve all'Italia oggi e agli italiani è in questo momento, è oggi che c'è l'inflazione che aumenta, oggi che c'è il caro benzina, oggi che c'è il caro energia. Ci ricorda quant'era quella somma? 800 milioni? Erano circa 2 miliardi, 800 milioni sì. 800 milioni, no? Più o meno era quello. Ok, no, no. Ma non solo, anche la possibilità di dilatare nel tempo e quindi di procrastinare quelli che erano gli extra profitti sulle società di energia che dovevano pagare a settembre la prima rata e viene procrastinata. Quindi, ancora una volta, deboli con i forti e forti con i deboli. E i cittadini hanno necessità oggi di mettere il piatto a tavola, non certo domani, non fra un mese o quando verrà in mente a questo governo di voler prendere in mano questa situazione. Rimini oggi riparte da Guareschi, Peppone e Don Camillo. Ci sono ancora questi rapporti della politica stridente, diciamo nell'apparenza, ma sostanzialmente d'accordo a suo avviso? C'è qualche estremo che ci ricorda quello che ci diceva la nostra Francesca Martelli? Tanto buongiorno. La politica dovrebbe essere il luogo di confronto e esistono luoghi istituzionali per farlo, che sono le Camere. Il punto però io credo che sia un altro, cioè che segnale sta dando oggi la politica fuori? Cioè, noi abbiamo un paese, prima parlavate del tema dei blocco degli Euro 5, ne parleremo anche dopo, cioè un paese che sta soffrendo, un paese dove il caro vita morde, l'inflazione, i caro bollette, i mutui. Quindi le persone fanno fatica ad arrivare a fine mese e non solo. Quel ceto medio che è fatto di artigiani, di imprenditori, ha già subito una delle tasse più significative. 51 miliardi sono stati praticamente prelevate dai conti proprio per l'inflazione e i mutui. Allora, a fronte di un paese che soffre, la politica per essere compatta e unita dovrebbe dare segnali concreti. Quindi incidere e abbassare appunto i mutui, incidere sull'inflazione, applicare politiche che aiutano chi è in difficoltà. Invece noi qua vediamo esattamente il contrario, cioè un governo che sostanzialmente è inerte a fronte della benzina che va a superare i due euro, che è una tassa vera sugli automobilisti, un governo che non fa nulla per abbassare i prezzi, che lascia le famiglie per mesi alle prese con questi mutui e le stelle. E poi è chiaro che le persone fuori dalla politica si arrabbiano, è chiaro che ci aspetta un autunno caldo, perché purtroppo la politica che oggi ci governa sta facendo esattamente il contrario di quello che aveva promesso. Cioè, e vado a chiudere, una politica che anziché tutelare chi è in difficoltà e chi è debole, privilegia i potenti e le lobby. E questo io credo che sia inaccettabile in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Che cosa ci dice sulla denatalità? Insomma, io ero piccolo quando si parlava di invertire il trend, eppure siamo sempre qua. E abbiamo visto che abbiamo perso 1,5 milioni di italiani solo in nove anni. E' uno dei drammi di questo paese, e che francamente io trovo piuttosto surreale, che a distanza di dieci mesi il governo Meloni scopra dall'oggi al domani sostanzialmente che c'è un problema che è la denatalità. Attenzione, questo è un po' il modo con cui si muove questo governo. Ormai Giorgia Meloni ha vinto le elezioni praticamente un anno fa. Oltre a non vedere quelli che sono i problemi del paese reale e non dare risposte sul caro vita, il caro mutui, l'inflazione, che incidono poi sulle scelte dei nostri ragazzi, oltre a aver tagliato i sussidi, quindi le protezioni sociali, aver detto no al salario minimo, aver incentivato il lavoro precario, l'unica cosa che rimane di questo governo è che in realtà Giorgia Meloni in soli dieci mesi, perché di questo parliamo dieci mesi, ha fatto il contrario di quello che avevo promesso. Faccio tre esempi. La benzina, due euro al litro, ha tolto lo sconto quando va a togliere la cise e poi è certo che incide sul costo della vita, sulle materie prime, sugli alimenti. Le altre due onorevole già rappellino. I migranti doveva bloccare il blocco navale, siamo ai migranti fuori controllo, il record oltre i centomila. Ma pensiamo anche al tema dell'Europa, di cui parleremo dopo. Cioè Giorgia Meloni, che poi incide sul tema della natalità, è con lei che diceva che il problema era l'austerità, che il problema è l'Europa e oggi incassa i complimenti dei falchi d'Europa e non solo, applica una politica di austerità, che sono taglia la sanità, taglia la scuola, taglia il welfare, che sono poi le scelte anche di questi ragazzi, questa ragazza, magari non fare figli. Allora io credo che, oltre a non rispondere ai problemi italiani, noi abbiamo un tema chiaro, cioè una Giorgia Meloni, che ha fatto talmente tante giravolte che le abbiamo dimenticate e queste giravolte purtroppo le paghiamo in temi economici e quindi in temi di danni noi italiani. Cioè noi a fronte di un patto di stabilità che rischia di tornare in essere e quindi che impatterà, perché purtroppo l'austerità c'è già, a Italia la sanità, alla scuola, le abbiamo già visti con questo governo, noi abbiamo un ministro Giorgetti e un ministro Fitto che vanno al meeting di Rimini e dicono che sperano che non rientri il patto di stabilità, che potrebbe essere un problema. Ma io dico, questo è un governo di sovranisti, ma sono stati votati per andare in Europa e battere i pugni e fare gli interessi italiani. Non è che sono dei passanti, io francamente lo trovo alquanto, io sono rimasta allibita dalle parole di ieri. Tornando al tema di cui trattavate della benzina. Allora, anche qui, Giorgia Meloni, ce lo ricordiamo il video, no? Noi abbiamo un paese fuori che soffre, il tema degli ambulanti, io sono a Torino in questo momento, li conosco benissimo come l'artigiano, il commerciante, cioè un mondo che fa fatica dopo il Covid, indebitato, con i tassi di interesse che sono carissimi. Ed è chiaro che non può essere lasciato da solo affrontare la transizione ecologica, che è necessaria perché dobbiamo tutelare la nostra salute, il nostro ambiente e anche creare opportunità. Il problema è che questo effetto della transizione ecologica, unito al caro benzina è un governo che non fa nulla, unito al caro vita è un governo che non fa nulla, unito al caro mutuo è un governo che non fa nulla, diventa una bomba sociale. E il ceto medio, e chiudo, che è quello che ha tenuto in piedi il nostro paese, con i suoi artigiani, i suoi ambulanti, i piccoli e i medi imprenditori, noi rischiamo di trovarlo alla caritas a breve se andiamo avanti così. Il governo deve capire cosa succede fuori. No, sono sconfortato perché io dico solo che quando tu non puoi continuare a dire così, non è neanche far bene l'opposizione. Allora andiamo ai fatti, glielo chiedo io allora, onorevole Lupi. Non puoi dire che non hai fatto niente, puoi dire che non ti è piaciuto. Mi scusi Appendino, io l'ho ascoltata, adesso lei ascolta me, perché io poi sono moderato, tranquillo, ho 30 anni di esperienza, ma lei mi ascolta, ascolta le mie ragioni, mi fa dire, mi perdoni anche lei, mi fa dire, perché non è possibile continuare a dire non è stato fatto assolutamente nulla, e non è possibile, puoi dire che non ti piace. La invito a concludere con la benzina. Mi faccia finire, mi scusi. Però non prenda più tempo il doppio dell'onorevole Appendino, se non è un problema. Che la riduzione delle accise sia un taglio orizzontale sbagliato, perché va a vantaggio di chi ha l'Audi, chi è più ricco, chi può sostenere, e può sostenere l'aumento, e invece di chi ha la Panda, e invece non riesce a fare quella benzina. Quindi, siccome costa miliardi, miliardi di Euro il taglio delle accise, lo sa bene il governo Conti, se posso utilizzare quelle risorse per aiutare quello che ha la Panda, cioè quello che non può fare la benzina, eccetera, lo faccio in maniera puntuale. Il taglio delle accise aiuta a me che posso anche sopportare 0,30 centesimi in più di aumento, e invece non aiuta di più quello che invece non può sopportare quel tipo di onorevole Lupi. Per cui noi siamo per andare a utilizzare le risorse per aiutare le famiglie più deboli e per quelli che possono in maniera puntuale, chi può e deve essere aiutato. Allora, niente taglio lineare sulle accise, dice perché costerebbe un miliardo al mese se non abbiamo fatto male i conti, insomma, qui a casa nostra. Onorevole Appendino vuole ribattere a Lupi. Velocissimo, il record migranti c'è o non c'è? Il record della benzina c'è o non c'è? Il record dell'inflazione c'è o non c'è? E chi governa è il governo Meloni. E dico una cosa, la coperta corta non funziona più. Cioè un governo coraggioso, peraltro sovranista come dovrebbe essere questo governo, aggredisce le lobby e i potenti, quindi gli extraprofitti delle banche, gli extraprofitti degli assicurativi, le lobby delle armi, va a prendere i soldi sulle transazioni dei grandi potentati del web e quei soldi li ridistribuisce a chi è in difficoltà, le famiglie povere, il ceto medio che si sta impoverendo. Invece questo governo non ha il coraggio di aggredire dove i soldi ci sono e anzi taglia su chi è in difficoltà. Io credo che questo sia un mondo al contrario, soprattutto nel momento in cui le disuguaglianze esplodono. La coperta corta è frutto di una scelta politica sbagliata di questo governo. I soldi ci sono, dovete andarli a prendere, invece vi concentrate su tagliare il salario minimo, tagliare le protezioni sociali e non aggredire i grandi profitti. E questo è il problema di sbagliare. Se vuole che io e lei continuiamo a discutere su questo tono e non facciamo capire a chi ci ascolta come si risolvono i problemi, se ritorni al 3%, cosa che il governo conti, dal Covid in poi, non ha mai avuto come vincolo, mentre io ce l'ho avuto come vincolo sotto il governo Letta e so che cosa vuol dire governare sotto il deficit del 3%, vuol dire che non puoi usarli quei soldi. Allora, lei mi può dire, andiamo insieme in Europa e battiamo i pugni, oppure facciamo le battaglie come stiamo facendo via collegamento, se dibattete tra di voi, va soprattutto a detrimento. Abbassiamo i collegamenti per corte... Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.